Per rinforzare una squadra che piace, piace tanto... Per Lusconi usa la pompetta, le mani addosso non si mettono, siamo in democrazia. Per Lusconi usa la pompetta, non mettono la pompetta. Prodiamo alle 21 di questa sera, un lunedì in Nero per i trasporti anche... È una battuta, la ragazza. No, le mani addosso non si mettono. Dada, Alessia. Sì, è ripresa poco dopo mezzogiorno l'udienza qui al Tribunale del Resamo e che deve decidere sulla scarcerazione o meno del... Berlusconi, coglione! Berlusconi, coglione! Che deve decidere sulla scarcerazione. È un coglione Berlusconi! ...e un coglione Berlusconi! ...e un coglione di italiano dalle 10 erano integralmente su internet, sul sito di scuola.net, i primi sms alle 8.33 su studenti.it. Ma ecco i temi della maturità. Ma ecco i temi della maturità. Un messaggio breve, quattro argomenti, innamoramento e amore, dal famoso libro di Alberoni, la creatività, la cultura giovanile, con immagini dalla Vespa, Facebook... Berlusconi, pedofilo! Berlusconi, pedofilo! Possiamo restituire la linea... What is going on here? They should reopen the police investigation. They say... Berlusconi, pedofilo! Berlusconi, pedofilo! Siamo in democrazia! Giustizia per me, redite! Giustizia per me! C'è una famiglia, ci sono i parenti! Ok, that's enough, thank you. ...suffragio del suo predecessore. Non è dosso, non è dosso. Allora, diamo la linea allo studio perché ci sono i suoi. Il Bordeo è finito intorno alle 18.00. Scusate, diciamo inoltre che lanciamo adesso il servizio... Lo scoglio, lo scoglio! C'è il solito incivile alle spalle di Laura Chimente... ...di maniera italiana Rocco Sabelli... ...siano trattenuti da sabato scorso senza avere la possibilità di parlare... Il Papa è un pedofilo! Il Papa è un pedofilo! Imbecille, passagli il microfono e gli dico io chi è! Ma non perdere tempo qua! Lasciaci lavorare! Ma lasciaci lavorare! Vai via! Passagli l'auricolare! Un momento. Passagli l'auricolare. Noumenos Concerto! Paolini! Togge'l il microfono! Toglie il microfono! Passagli il microfono! Togli il microfono! Passagli il microfono di- Toglie il microfono! Alfredo! Ecco guarda. Lascia il microfono, ma sei proprio... Ma guarda, togli il microfono. Passagli il microfono di- Togglie il microfono! Gli dai il microfono? pensa tu